Bentornati al canale d'Italia, oggi siamo qui per la recensione di Night Swim e il nuovo film di Bryce Maguire, la trama qual è? Ray Waller è un ex giocatore di baseball a cui è stata diagnosticata una sclerosi multipla e ritiratosi dalla Major League decide di trasferirsi con moglie e figli in una casa munita anche di una grande piscina esterna che però nasconde uno scuro segreto dal passato che scatenerà una forza maligna su Ray e la sua famiglia. Ricordo che questo film è tratto dall'omonimo cortometraggio di Appena 4 minuti del 2014, sempre diretto da Bryce Maguire e anche da Rob Blackhurst, che potete trovare benissimo su YouTube, eccolo qua. Allora, Bryce Maguire dirige un film che utilizza l'elemento centrale dell'acqua, perché ovviamente è un film che parla di una piscina infestata, l'elemento centrale è l'acqua. Usa l'elemento dell'acqua in modo discreto come aiuto e supporto per la regia, come inquadrature movimentate come l'acqua, utilizza ovviamente la telecamera, metta sott'acqua, metta fuori dall'acqua. Diciamo che gioca con l'acqua a proposito di questo elemento, però appunto aiutandolo alla regia. Peccato però che... è finita la parte delle cose che mi sono piaciute, e questo film sia superficiale su tutte le cose concrete e astratte di questo film qua. Cioè qualsiasi cosa che anche passa nell'aria è fatta male, è fatta male perché è superficiale. A proposito di acqua e piscina, questo film gioca però sulla superficie, non va mai in profondità nella sua piscina. Rimane sempre sulla superficie di qualsiasi, qualsiasi, qualsiasi cosa. Tutto in quest'ora e 38, durata del film quindi capite, è una durata proprio sostenuta. Tutto quello che succede in un'ora e 38 viene appena accennato per poi essere o dimenticato, come per esempio il personaggio di Ronin, dopo ve lo dico nella parte con spoiler, la barchetta, dopo ve lo dico nella parte con spoiler, o tutto viene raccontato in maniera superficiale, come, non so, il background della piscina, cioè la parte centrale, l'elemento centrale su cui il film ruota, era occupata in maniera molto approssimativa, molto raffazzonata, l'elemento della piscina, il background della piscina, ma soprattutto anche le persone che vivevano nella piscina. Perché ovviamente non mi sembra uno spoiler il fatto che se c'è un elemento infestato come la piscina vuol dire che tutti i precedenti proprietari di... sono morti, come quando ci sono le bamboli infestate, le case infestate, tutti, come Oculus, anche Oculus, lo specchio, tutti i precedenti proprietari dello specchio sono morti. E a proposito, non ho tirato un film fuori a caso, la caratterizzazione che viene data in Oculus di quello dello specchio, di... delle persone che possedevano lo specchio, era quantomeno interessante, perché comunque ci mettevano anche una componente oro, con le foto, con i cosi di giornale, ti facevano sentire un po' l'ansia, gente che si cavava le unghie, gente completamente disidratata in una piscina d'acqua, in una vasca d'acqua per colpa dello specchio. E quindi dicevi, ah cavolo, mi fai fare un background dei personaggi e dello specchio contemporaneamente. Qua neanche lo sforzo di fare questo, una persona che va su Google e si guarda i ex proprietari, ma se li guarda bene, visto che sono tanti, e invece niente, perché è la spiegazione, la caratterizzazione, nel background della piscina, dei proprietari della piscina, è di una scena a testa, di nea... No, un minuto è troppo. Anzi, un minuto insieme, 30 secondi, 30 secondi. Stiamo parlando della piscina, stiamo parlando del... Ah! Cioè, anche lì, il problema di ex proprietari, che in questo film ci sono ovviamente in forma di demoni, chiamiamoli, e il problema è che vengono usati solo, solo ed esclusivamente per i jumpscare. I jumpscare tutti di basso livello, molto basso livello, tutti scarsi, scarsa come le scene di suspense nella piscina, con poca inventiva, come il suo sviluppo fotocopia impressionante di tutti gli altri film horror di basso livello. e comincia il solito accarellata di elenco. Midnight Man, Bye Bye Man, Obbligo Verità, Countdown, Smile, anche se Smile qualcosa faceva, Jack in the Box, Grim Cutty, Ouija, tutti questi film sono esattamente la fotocopia, tutti a prendervi per il culo, tra virgolette giustamente anche un po', i cine panettoni, che alla fine la trama è sempre la stessa, cambiano solo il Nilo, l'India. Qua è uguale, cioè tutti questi film sono identici, l'unica cosa che cambia è la piscina, e poi cosa c'abbiamo? L'uomo del mezzanotte, e poi c'abbiamo quella che ride, e poi c'abbiamo il telefono countdown, il Jack in the Box, sono tutti uguali, cambia solo un pezzettino, dopo tutto l'impostazione è la stessa identica, ma dopo, nella parte con spoiler, ovviamente vi fa voglio esempi. C'è questo film, non ha niente di interessante, ma niente, e stiamo parlando di un film che poter usare la piscina molto meglio di come l'ho usata, partendo dal titolo, ma dopo ci arrivo, perché il titolo è completamente sbagliato, ma ci vediamo dopo, anche perché, per l'appunto, il film ha un aggravante molto importante, cioè forse, quello che sto per dire, per me, è il problema più grande di tutto il film, ovvero che la premessa di base, non è per niente sufficiente, per niente forte, a supportare la durata di un lungometraggio, cioè, ok, Night Swim, piscina infestata, bene, per un cortometraggio di 4 minuti, se mi devi fare un film della durata di un'ora e 38, che comunque è poco, infatti questo film sta sulla superficie di qualsiasi cosa, su una piscina infestata, ma lo vedi benissimo, che il film utilizza spedienti narrativi stupidi, a volte anche un po' fuori contesto, ripetitivi, per mandare avanti, per mandare avanti una trama a un'ora e 38, neanche dici, per mandare avanti una trama arriva a due ore, dici, minchia, è arrivato a due ore, a un'ora e 38, e a un'ora e 38 ci arriva nuova fatica, di più, cioè, dito proprio francamente, dopo 5 minuti, il film, quello che doveva raccontare, l'aveva raccontato, una piscina infestata, basta, anche perché, ma perché dopo vi dico, eh no, ma perché allora i personaggi, no, perché, piscina infestata, ok, l'ho già capito il film, anche uno che ha visto un solo film horror, nella sua vita, ha già capito un vero film, piscina infestata, ah ok, quindi le persone arriveranno in questa piscina, ed entreranno nel loop, delle persone che hanno avuto questa piscina, hanno avuto la casa con la piscina, e sono entrati nel loop, delle morti, ma lo capisci anche senza vedere il film, che il film va a finire così, e lo capisci dopo la prima scena, dopo la prima scena, e il film va avanti, con tutti questi espedienti stupidi, inutili, ripetitivi, e con vuoti, lodici, e bucchi di trama, per arrivare al finale, al gran finale, che ovviamente è la cilegina sulla torta, della scontatezza assoluta, perché come facciamo a finire il finale, è così, come facciamo a finire il film, con questo espediente idiota, e tra l'altro, il film manca anche l'occasione, per portare un po' di critica sociale, un po' di polverina magica, che c'è ultimamente nei film horror, non sui demoni, per l'appunto, era un po' una causa persa, tipo, butto lì eh, invece di piscina infestata, bastarda la tua vita, potevi fare, non so, l'acqua inquinata, perché c'era l'inquinamento delle acque, l'inquinamento delle falde acquifere, perché la gente continua a inquinare, e l'inquinamento atmosferico, e mi facevi l'acqua, che chi faceva un bagno nella piscina, diventava pazzo, è un esempio, e tu dici, eh ma allora, per dire il senso del film, no ragazzi, allora ve lo dico proprio francamente, il titolo di questo film qua, non ha assolutamente senso, il titolo del cortometraggio, ha senso, perché è una scena, di quattro minuti, di una persona, di una donna, nel cortometraggio, che fa una nuotata in piscina, di notte, perfetto, qui, per l'appunto, torniamo al discorso di prima, che questo film usa spedenti narrativi inutili, e con vuoti lodici, per portare avanti il film, Night Swim, nuotata notturna, questo film, non esagero, credo che abbia, molte più scene, in piscina di giorno, che di notte, e Night Swim, Night, Night Swim, la parola Night, implica, un periodo della giornata, molto precisa, non, Black Swim, che dici, con piscina nea, o Red Swim, mmm, mmm, rosso, paura, sangue, dolore, no, Night vuol dire, notte, e invece, è la festa in piscina, e il bambino, con, che trova il giocattolo, che gioca, di giorno, tutte scene di giorno, e queste cose ci sono già nel trailer, quindi, vedete che già, già il titolo, porta dei problemi, alla sua stessa trama, già il titolo, ho pensato tutto il resto, adesso, direi di passare alla parte, con spoiler, che c'è da divertirsi, 3, 2, 1. Allora, tutti, i maledetti film, che ho elencato prima, e ragazzi, ho elencato quelli, che mi sono venuti in mente, ma soprattutto, ho elencato quelli, che, di cui trovate la recessione, sul canale, di tutti, forse tranne di due, di quelli che ho elencato, cominciano, sempre, sempre, con una scena, nel passato, e questo film, comincia con una scena, nell'estate del 1992, va bene, e dopo si va al presente, sempre al 100%, 100%, poi, in ogni, di questi, in tutti questi film, bifolchi, c'è sempre la scena, dove, la protagonista, o il protagonista, fanno la ricerca, sulla casa, o sull'oggetto, in questo caso, la piscina, in questo caso, doppia piscina, e casa, e dopo, vanno sempre, dalla persona, che ha avuto, a che fare, con questa cosa, e questa persona, solitamente, è malata di mente, sempre, e anche questo film qua, ce l'abbiamo, mettiamo una bella spunta, quindi, e attenzione, poi, un'altra cosa, il finale, di tutti questi film, è sempre lo stesso, cioè, una persona, si deve, sempre, sempre, sacrificare, per salvare, il resto della famiglia, o il resto degli amici, poi, la scena, della madre all'inizio, quella dove lei nuota, è l'unica scena, che mi ha messo, leggermente, un po' d'ansietta, o, da zero a dieci, due, ma non perché io sono, il mostro sacro, dei film ora, perché semplicemente, non ho visti, più di quattrocenti, ormai, i meccanismi li so, ma per, semplicemente, per una cosa, che hanno fatto, un'inquiratura bella, che ovviamente, è bella, non l'hanno più fatta, per tutto il resto dei film, l'hanno fatto solo con le scenari, quando lei nuota, in stile libero, e quindi, la telecamera, lei che, con la testa, fa così come, quando nuoti, in stile libero, si potrà fare, tipo in quella scena lì, però, è una delle poche scene, che almeno dai, la salviamo, si potrà fare di più, si potrà fare meglio, potrei fare un jumpscare, molto più interessante, o una scena di tensione, molto più bella, avrei puntato più sulla tensione, che su jumpscare, in quella scena lì, di più, vabbè, salviamola, poi, la scena di Marco Polo, tra, Izzy e, Kai, scusate, Ronin, pardon, è, è terrificante, per il concetto, della scena in sé, perché lei, non so perché, a un certo punto, non apre più gli occhi, vabbè, insomma, l'ige ha le regole del gioco, vabbè, ci crediamo, per la riuscita della scena, che è terrificante, ma soprattutto, per il finale, che è una scena, quella scena lì, alla fine è utile, solo ed esclusivamente, per il rapporto, tra i due, peccato, che il rapporto tra i due, si sono visti, una sola volta, nel film, all'inizio, e sembra che sono, i super fidanzatini, che si sono visti, 57 volte, ovviamente, qua, torniamo al discorso, della superficialità, di tutto, in questo caso, sia di Ronin, che di Izzy, del rapporto tra i due, ma soprattutto, mamma mia, fantissima, perché, Ronin, sembrava un personaggio, abbastanza importante, nel film, perché lo vedi, una scenezza, alla scuola, che fa gli occhi dolci, dopo, nella scena, quella lì, nella piscina, che dopo gli dà il bacio, Ronin, bacia Izzy, alla fine della scena, dopo, il giorno dopo, nella festa in piscina, e dopo, Ronin, non lo vedi, più, il personaggio di Ronin, viene appallottolato, e buttato, nel cestino, dell'umido, umido, visto che è a piscina, quindi bagnato, umido, il personaggio di Ronin, se uno ci fa caso, il personaggio di Ronin, due punti, a cosa ha servito, cioè, qual è la funzione, del personaggio di Ronin, ha una funzione, porta qualcosa, il film, un oggetto, un'idea, il personaggio di Ronin, è completamente, inutile, non serve a niente, come l'oggetto, della barchetta, cosa serve la barchetta, che nella prima volta del film, l'oggetto della barchetta, sembra un personaggio, un oggetto, scusate, fondamentale, lo vedi, in qualsiasi scena, in piscina, non serve a niente, non serve assolutamente a niente, è solo un oggetto, di, un props, di, della famiglia asiatica, ok, e tu dici, ok, vabbè, era l'oggetto, ok, e tutti gli altri, tu dici, la famiglia asiatica, era una delle famiglie, che aveva avuto a che fare, quella piscina, bene, tutte le altre, solo loro, avevano la barchetta, tutti gli altri, niente, questa scena invece, che è la scena, quando, come si chiama, Elliot, cerca, sente il gatto, e dopo cade in piscina, quindi siamo alla fine del film, quella scena, è sbagliata, a livello concettuale, cioè proprio, secondo me, secondo me, per mio parere, un errore, di idea, perché, Elliot, sente il gatto, miagolare, il sonaglio, ma, il sonaglio, l'aveva perso il gatto, addirittura, era stato trovato, in piscina, per cui, lo avevano capito, che il gatto non c'era, quindi, il fatto che Elliot, sente il sonaglio, è un po' una puttanata, comunque, vabbè, diciamo che, è l'ultimo dei problemi, questo quello del film, poi, fa molto ridere, la verità, ed è una cosa che dici, sarai anche piccolo, però, e, Elliot, deve, sente, deve girare, il flamingo, il pink flamingo, il fenicottero gonfiabile, perché, sente che il gatto è dentro, Elliot, amore della vita mia, perché, invece di fare, Mission Impossible, il protocollo fantasma, non prendi, come hanno fatto tutti, in questo film qua, il retino, per togliere, la, le foglie, le cose, nella piscina, e avvicini, il, il fenicottero gonfiabile, così vedi, che dentro, non c'è assolutamente niente, e, invece, no, bisogna fare, le robe difficili, c'è la cosa bella, quella scena, serve solo per un jumpscare, che, non esiste, non esiste, il jumpscare, quella scena, perché, l'avevi già capito, appena sentito, il mio colore, avevi già capito, come andò a finire, però vabbè, la scena, in cui, è Eve, la madre, tra l'altro, interpretata, da Carrie Condon, che l'anno scorso, era presente, in, gli spiriti dell'isola, uno dei migliori film, che ho visto, negli ultimi, dieci anni, è un'attrice, che ha fatto, un bel po' di film, molto famosi, e anche una bravissima attrice, e dopo, la termine, trovi a fare, questi film qua, bifoichi, e, quando Eve, salva suo figlio, in piscina, appunto, che era caduto, in quel frangente lì, nel gatto, intanto, è divertente, come quella piscina, sia diventata, da una semplicissima piscina, all'oceano pacifico, cioè, un atollo, era diventato, quella piscina lì, perché, non so, era gigante, era diventato, ho capito, per gli effetti, della fonte, va bene, perfetto, non c'è nessun problema, e, complimenti per il fiato, allora, se quello non è un problema, il problema diventa il fiato, allora, perché, va bene, lei ha preso il tubo, ha soffiato, per prendere più, fiato, ma alla fine sappiamo, che quando ci sono le lezioni, sull'acqua, il problema è sempre quello, quanto minchia, di respirazione, c'hai, cioè, cinque minuti, devo lanciare lì, non so, non so, tutte cose, che dice, va bene, passiamoci sopra, è però, va bene, passiamoci sopra, va bene, passiamoci sopra, passiamo sopra, un bel po' di robe, mi sembra, questo film qua, e, ripeto, 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 partendo già dall'errore, mostruoso, secondo me, che c'è nel titolo, io, francamente, non ho altro da dire, il mio voto è 4 e mezzo, ripeto, un film che per me, per le scene che ha, sbaglia già dal titolo, perché, in questo film, ci sono più scene in piscina, o, di giorno, che non, di sera, anzi, di sera, mi sa che ci sono, mi sa che siamo 4 a 3, o 4 a 2, poco importa, e, è un film che, si vede che è tratto da un cortometraggio, ma non, ma non vuol dire niente, perché anche, anche, Babadook, anche, Lights Out, sono tratti da un cortometraggio, ma qualche idea la buttano dentro, questo film è tratto da un cortometraggio, di, appunto, una, una che nuota in piscina di notte, e tu mi fai tutto un film basato sul nulla, che, solita fotocopia di tutti gli altri film elencati prima, o, o, sceni, che non hanno niente da raccontare, questo film non ha niente da raccontare, e, sta sulla superficie, di tutto, non caratterizza niente, non caratterizza i personaggi, ripeto, il film aveva, Wyatt Russell, Cary Condor, aveva un cast, abbastanza interessante, ma niente, la piscina, la fonte, che devi dare una vita, ti dà un sogno, ti dà un desiderio, un problema della vita, ma che cazzo dite, invece, potevano fare una cosa più interessante, dell'acqua, con la, appunto, la roba chimica, inquinamento, fare la roba anche un po', critica sociale, invece no, putta di Dume, come sempre, scrivete nei commenti, cosa ne è piaciuto, se non vi è piaciuto, pagina Facebook, profilo Instagram, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, attivate la campanella notifiche, ci vediamo, a una prossima puntata, con il Dalle, che si mette, la cuffia, perché se no, non ti fanno entrare in piscina, eccole qua, si mette la cuffia, sono storto, per andare in piscina, perché se no, non vi fanno entrare, 3 a 1, delete. vi gà, vi gà, vi gà, vi gà, vi gà, vi gà, vi gà,